Sulla tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri in via Cascione a Imperi, ora indaga la procura della Repubblica che ha aperto un'inchiesta e attende le relazioni dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti dopo che l'enorme copertura, posta provvisoriamente sul tetto del teatro Cavour, oggetto di un intervento di ristrutturazione, è stata sollevata dal forte vento e scagliata sulla via sottostante. Un impiegato del cinema si è accorto di quanto stava accadendo e ha iniziato a urlare facendo fuggire le persone, una donna proprio per evitare di essere travolta dalla copertura fatta di teli e tubi di acciaio, è caduta restando lievemente ferita e ha dovuto essere trasferita a pronto soccorso. Per fortuna alla fine non si sono registrati feriti gravi e nemmeno danni ingenti, ma considerato che in questo periodo via Cascione è aperta anche al traffico di auto e moto, il bilancio avrebbe potuto essere decisamente molto più grave. Ieri al momento dei fatti il vento aveva raffiche superiori a 90 km orari e la copertura in tela ha probabilmente creato un effetto vela sollevanto un'intera struttura che pare fosse stata verificata in precedenza insieme all'impalcatura dai tecnici dell'ASL per accertarne la regolarità. Le indagini ora dovranno accertare ulteriormente rispetto di tutte le norme di sicurezza e che siano state effettivamente adottate tutte le necessarie precauzioni per evitare quanto accaduto.